Grazie a tutti. Domenica si ripresenta all'Olimpico, forse la scena dello Stadio Olimpico e una buona prestazione confermata potrebbe conquistare le attenzioni di Mancini in nazionale? Sicuramente andare a giocare all'Olimpico contro una Roma, soprattutto con lo stadio pieno, è una gran bella cornice. Prima di tutto speriamo di fare una grande prestazione e magari portare un risultato utile a casa. La nazionale rimane un sogno, se me la conquisterò sarà perché partita dopo partita darò il mio contributo alla squadra facendo bene, facendo prestazione dopo prestazione. Quindi è normale che contro la Roma sia una partita più di cartello, più visibile, però io devo continuare così sulla mia strada cercando di aiutare la squadra partita dopo partita. Poi se arriverà la chiamata sarà veramente un sogno incredibile. Però le prestazioni e le parate rimangono vive sul campo? Ci sono? Sì, sì, no. Sotto il mio aspetto sto facendo bene, però comunque sia per guadagnarsi la nazionale devi fare tutto il campionato bene. Quest'anno è stato convocato, mi viene in mente Vicario, che l'anno scorso magari aveva fatto un campionato strepitoso, però non era stato mai convocato. Quindi Mancini magari l'ha voluto premiare per il campionato scorso, quindi io ho iniziato adesso a giocare seriamente in Serie A, quindi me lo dovrò conquistare piano piano e appunto sperando di continuare così. Gabriele Giorgi, Lecce prima. Sì, Vladimir, due domande. Se si guardasse la classifica dal punto di vista dei gol subiti, Lecce sarebbe nella parte sinistra perché solo otto squadre hanno subito di meno, alcune pochissimo meno. Secondo te dopo otto partite questo è un dato consolidato, cioè che si può vedere in prospettiva e che sensazioni ti suscita? La seconda domanda è che molte volte dagli sparti alcune parate che sono effettivamente difficili ci sembrano meno complicate, il contrario. Alcune parate spettacolari sono invece percepite come difficili. Qual è stato finora l'intervento più difficile tecnicamente che senti di aver fatto? Per la prima domanda ti dico assolutamente sì, è un dato da tenere conto perché comunque sia per una neopromossa subire pochi gol è una gran cosa. Abbiamo una difesa secondo me fortissima, è uscito fuori Fede, Baschirotto che nessuno se l'aspettava, sta facendo un campionato strepitoso, mi dà una grossa mano. Poi io cerco sempre di mettere una pezza lì dove serve e quindi poi sono molto contento appunto di aver subito tra virgolette pochi gol. Magari dobbiamo migliorare qualcosina là davanti ma sicuramente ci arriveremo. Abbiamo giocatori forti per fare mare alle altre squadre quindi miglioreremo anche su quello. Sulla seconda domanda forse la parata più difficile è stata domenica su Okereghe, quella è stata la più difficile, anche un po' la più spettacolare. Però appunto a me piace immaginare il ruolo del portiere, un portiere forte appunto che rende magari parate che sembrano difficilissime e appunto renderle facili. Quello è la forza di un portiere molto forte quindi appunto sono contento magari che do questa sensazione qua. Però assicuro che in Serie A ogni parata ha le sue insidie. Fabio Casilli, Gazzetta del Mezzogiorno. Buon pomeriggio. Abbiamo una difesa fortissima però i difensori si sono un po' avvicendati a parte Baschirotto e Cendrei. Sulla sinistra e anche al centro insomma. Con chi ti sei trovato meglio e in prospettiva dovesse essere buttato, messo in campo anche un Titi. Diciamo cosa può cambiare dal tuo punto di vista? No ripeto appunto abbiamo una difesa forte comunque sia Vale ha sempre giocato a destra, un giocatore assolutamente affidabile. Poi i centrali abbiamo appunto Fede Baschirotto che è uscito un po' fuori la sua bravura. Poi anche Mari in Pongracic è un giocatore che l'anno scorso stava in una squadra che si chiamava Borussia Dortmund. Quindi giocatore di spessore. In più un Titi che sicuramente ora inizierà a darci una mano seriamente nelle partite che contano. Quindi un giocatore di assoluto livello, un giocatore veramente di caratura mondiale. A sinistra abbiamo Giuseppe Pezzella che è un giocatore che ha fatto anche lui la Champions League, un giocatore importante per la Serie A. Più abbiamo un giovane Antonino Gallo che sta crescendo, sta facendo cose buone. Quindi chiunque giochi io mi sento sicuro, senza dimenticare quando ha giocato Alessandro Tuglia. Io ero sicurissimo con lui, mette la sicurezza. Lo stesso se dovesse giocare Dermacu sarei tranquillo lo stesso perché li vedo tutti i giorni all'allenamento e so che mi possono dare quella sicurezza che serve. Chi temi di più della Roma? Eh, un po' tutti. No, scherzo. Diciamo, sono giocatori di qualità. Sicuramente ora con l'arrivo di Dybala hanno alzato il tasso tecnico, quindi è un po' lui il giocatore più pericoloso, ma senza dimenticare Abram o Zagnolo o comunque sia i subentranti che, anche se dovessero cambiarsi un po', comunque sia il livello tecnico non si abbasserebbe. Valeria Coi, Corriere Salentino Buon pomeriggio. Tornando a domenica, hai indovinato l'angolo, però non sei riuscito a pararla. Io vorrei sapere cosa hai pensato in quel momento, poi però, quando Strefezza ha tirato, questa è una considerazione che volevo che mi raccontassi tu, tu hai veramente esultato tanto, questa solitudine dei numeri 1, in realtà, vabbè, tu non sei numero 1, però sei 30, però questa tua grande solitudine nel dover poi esultare quando c'è il rigore, che la squadra è tutta lì e tu sei solo. Mi racconti questi due momenti? Allora, sul rigore ti correggo un po' perché ieri ero rimasto centrale. Avevamo visto i video con i preparatori dei portieri, e Ciovan era uno che spesso nelle partite bloccate, nelle partite quelle dove doveva per forza far gol, diciamo così, spesso aveva la botta centrale. Quindi ho pensato, sai, scontro diretto, partita che comunque sia conta, magari ci stava che tirasse centrale. Quindi sono rimasto un po' centrale, me la sono giocata così, poi invece lui l'ha aperta. Infatti a fine partita abbiamo anche un po' scherzato su questa cosa, lui mi ha detto che a sua volta mi aveva studiato, quindi se l'aspettava che rimanevo centrale, e ha tirato nell'unico modo in cui non li tirava mai, cioè l'ha aperto. Sulla seconda cosa, sì, il rigore non l'ho visto di Gabri, che è un po' una mia scaramanzia. Esulto tanto perché so quanto significa per noi fare gol, so quanto significa per noi, appunto poi in una partita del genere, riprenderla, stavamo soffrendo tanto, quindi mi sono proprio liberato e poi stavo sotto la curva, quindi mi sono girato verso di loro e ho risultato insieme a loro. Carmen Tommasi, Telerama. Ciao, io volevo sapere com'è il tuo rapporto con Mister Sassanelli. Il rapporto con Gigi è fantastico, è una persona, oltre che un preparatore eccellente, è una bravissima persona con cui ti puoi rapportare facilmente. Mi aiuta tanto, ha fatto il portiere prima di me, quindi magari alcune dinamiche mi comprende e cerca di darmi i consigli che può. Lui uno mi fa stare molto tranquillo prima della partita, che per me è una cosa fondamentale, poi ripeto, comunque sia tutti i giorni mi aiuta e devo solamente ringraziarlo. Barbara Magnani, Antenna Sud. Buon pomeriggio, io volevo chiederti in questo momento con che spirito andrete a questa prossima partita importante quindi a Roma e anche Mister Baroni, che cosa vi sta dicendo? C'è qualcosa di particolare che state facendo, su cui state puntando, considerando anche l'ultima prestazione, com'è un po' il clima? Il clima è sereno, perché comunque sia l'importante domenica era non perdere. Noi abbiamo fatto una grandissima partita come al solito, ci hanno messo un po' sotto, quindi abbiamo un po' subito la Cremonese, però il clima è sereno e stiamo preparando bene la partita. Il Mister comunque sia tramite i video, tramite l'allenamento in campo, ci sta spiegando alcune cose riguardo alla Roma. Quindi no, andiamo lì in una bellissima cornice, in uno stadio pieno contro una grandissima squadra, però dobbiamo cercare di fare la nostra partita come abbiamo fatto magari a Napoli, come abbiamo fatto in casa con l'Inter, quindi cercando di portare a casa un risultato utile. Grazie a tutti.